Cercherò di essere breve. Io volevo ringraziare i proponenti di questo emendamento e questo emendamento ovviamente incontra il nostro favore. L'interesse credo di tutti è andare nella direzione di un sostegno per quei ragazzi che sono disabili e che necessitano dell'affiancamento dell'Oepa. Ovviamente questo affiancamento deve essere previsto anche nei casi in cui per motivi di emergenza sanitaria magari si fosse costretti a fare la didattica a distanza. Già l'abbiamo visto dall'inizio dell'anno che quasi a macchia di lopardo ci sono state delle chiusure nel senso che per settimane alternative e diciamo in alternanza oppure al verificarsi di un caso delle classi scolastiche hanno dovuto effettuare questo particolare tipo di didattica e quindi è giusto che vengano questi alunni assistiti nella corretta maniera anche da casa. Io li voglio veramente ringraziare e voglio specificare che noi stiamo entrando nel merito di quello che ci viene proposto e quando quello che ci viene proposto è accoglibile, di buon senso e può essere attuato allora noi ovviamente votiamo sì come faremo nel caso di questo emendamento. Grazie.